Verso il centro, Ajar ancora il tocco per Elisa Polli, prova l'1-2, ancora Ajar Anciut è da sola, Ajarà! Il Gioia, 1-0 Inter, è un gol pesantissimo per Ajar Anjoia che trova così la prima rete nera-azzurra, lo fa in un big match, lo fa contro la Roma. Il cross in mezzo per Ajarà, è da sola, Ajarà si gira, Ajarà! Ajarà! 1-1 Inter, segna solo gol pesanti, Ajarà il Gioia e l'Inter trova il meritato pareggio. Panelli ha solo Lidri davanti, se c'entra Marinelli, la palla dentro per Ajarà in Gioia, Ajarà si gira, mette giù un avversario, Ajarà! 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 4-0 Inter! Qui, bella azione dell'Inter con Ajarà, a parte il tiro di Ajarà il Gioia! Un'altra perla da parte della numero 33 interista! Cosa ha fatto Ajarà in Gioia? 2-0 Inter quando siamo al 27esimo. La palla per Bonetti, attenzione, la palla dentro per Guteracosini, il tiro in porta, palla che rimane lì, c'è Ajarà! Inter in vantaggio quando siamo all'undicesimo con il tappin vincente di Ajarà in Gioia e l'Inter è subito avanti. Il tocco dentro per Cargioni, attenzione, Cargioni! Ajarà! Ajarà! 1-0 Inter quando siamo al 72esimo e l'assegna ancora una volta questa rete contro la squadra bianconera, Ajarà in Gioia! Bravi mister! Qui sbaglia! Cappelletti regala un gol facile facile! A Tajara in Gioia e l'Inter trova il 2-0! Il tocco dietro su Cisara, il cross dentro, interessante per Ajarà! E l'Inter trova il raddoppio, azione bellissima! E la conclude Ajarà in Gioia! Portale, tanto spazio, si prende il fondo Macarena, la palla dietro per Simonetti, ancora un altro intervento e poi c'è la rete da parte dell'Inter con Ajarà in Gioia! Grazie a tutti!